Tutto assieme, proprio improvvisamente, cominciò a prendere a destra, appeso la prima staccionata di ferro che c'era. L'ha trattenuto questa staccionata di ferro per non farla andare giù nel ponte e poi si è ribaltato proprio dietro. Erano le 9.30 di questo mercoledì mattina quando il signor Antonino, sull'autopalio all'altezza di Monteriggioni, ha visto l'autobus a due piani che lo precedeva, uscire di strada, rotolando nella scarpata sottostante, un morto e 37 persone ferite, il bilancio di quella che poteva essere davvero una strage ancora più grave. Quindi l'ha frenato? Io non sapevo cosa fare perché lui ha preso il pilone, stava andando verso mio figlio che era con me. Quindi il garello l'ha respinto un po'? Un po' l'ha respinto e l'ha trattenuto, quindi ha fatto un sobbalzo verso l'interno strade, quindi ero dietro e poi l'ha portato giù verso la scarpata. Sull'autobus viaggiavano 60 turisti partiti di primo mattino da Montecatini verso Siena a perdere la vita. La guida del gruppo, una donna russa di 40 anni, quando i soccorsi sono arrivati sul posto. La scena era ghiacciante. Abbiamo visto che c'erano quattro persone che erano incastrate all'interno dell'autobus, pertanto tramite la gru l'abbiamo messo in sicurezza e i nostri operatori, lavorando per circa un due ore e mezza, sono riuscito a disincastrare quattro persone che poi sono state affidate al 118. Piangevano, scene di... Terrore. Hanno visto la morte con gli occhi. Gente che si trovava bene, che è stata catapultata verso fuori. Usciva chi con l'occhio gonfio, chi con il braccio ferito, chi perdeva sangue. Cioè, ci siamo resi conto che una... per me era morta, anche se non capivo, anche se non sono un medico, non sono un dottore. L'ha vista? Sì, sono sceso giù nell'autobus. E il signor Antonino, testimone, ha parlato immediatamente con l'autista. Lui stesso cosa ha detto? Io gli ho offerto una sigaretta, gli ho offerto... che si è distratto col volumare a radio. E non poteva essere altrimenti, perché andava piano. Cioè, lui non nemmeno si è reso conto che l'autobus si è andato tutto verso destra e si accostò su pilota. Non si è reso conto. L'ha aperto un fascicolo? Il procuratore ha informato di tutto, andate in tribunale e lui vi dirà. E l'autista Leonardo Santoro, 35 anni, di Castrovillari, è indagato per omicidio stradale e lesioni.